Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti. Questo video è da un lato una nuova puntata della serie dedicata alle distribuzioni GNU Linux 100% libere e raccomandate dalla Free Software Foundation e dall'altro un video dedicato a router e modem. Oggi vi presenterò un progetto molto interessante, LibreCMC. Ma comincio facendovi un paio di domande. La mia prima domanda è la seguente. Chi di voi ha a casa un router? Beh, immagino che la risposta sia tutti. Se avete una connessione DSL o tramite a cavo e non utilizzate una rete dati del cellulare, avrete un router. Apro una breve parentesi. Anche chi utilizza una semplice connessione da cellulare, la rete dati del cellulare, potrebbe utilizzare a casa un router. Ok, dando per scontato che avete un router, eccovi la mia seconda domanda. La mia seconda domanda è la seguente. Chi di voi può dire di fidarsi della sicurezza del proprio router? Beh, qua la risposta è in realtà ben pochi. Perché a seconda del vostro provider internet e del modello di router che vi hanno dato, potreste non ricevere aggiornamenti di sicurezza da un bel po' e quindi ritrovarvi un dispositivo abbastanza insicuro di cui non potersi fidare. Ok, terza ed ultima domanda è, chi di voi può dire di sapere cosa fa il software, il firmware effettivamente installato sul router? Chi ne conosce i segreti? Beh, anche qua la risposta è ben pochi. Quindi, non si tratta di software open source, quello che abbiamo normalmente su un router che otteniamo dal nostro provider internet. Quindi, quello che sto cercando di fare è farvi capire che il router è un dispositivo sempre acceso e sempre connesso alla rete internet, per cui sarebbe importante curarsi della sicurezza e anche della privacy di questo dispositivo, che ci offre questo dispositivo. Quindi, quali sono le opzioni che abbiamo a disposizione? Beh, se non ce l'abbiamo già, possiamo procurarci un router compatibile con Libre CMC oppure con OpenWrt, OpenWrt, che è il progetto da cui Libre CMC deriva, oppure ancora con PFSense, e là siamo sul mondo BSD. Fatto ciò, possiamo anche rispedire al nostro provider internet l'apparecchio che ci hanno dato ed eventualmente risparmiando in bolletta. Adesso io non vi posso assicurare che ci sarà un risparmio in bolletta, rispendo un po' dal contratto che avete. Nel mio caso, ad esempio, non c'è alcun risparmio, ma io su questo video mi vorrei focalizzare su sicurezza e privacy. Per quanto mi riguarda, mi sono procurato un router certificato alla Free Software Foundation, l'ho acquistato da ThinkPenguin, quindi in questo modo li ho anche finanziati. Penso che se lo meritano, vendono hardware assolutamente compatibile con Gnolinux. Va bene, il router in questione è quello che vedete su questo sito, si chiama TPE-R13000. Ho preso questo perché volevo il supporto al wireless, mi interessava potermi connettere tramite Wi-Fi. Le specifiche sono qua, un po' più in basso. Abbiamo 128 MB di RAM e 16 MB di memoria NOR. Vi consiglio di non scendere al di sotto di queste specifiche. Dovete sapere che un router in realtà non è che ha bisogno di chissà quale specifiche. Per un uso base potrebbero bastare 15 MB di RAM. Però dal momento che acquistate, dal momento che sostituite il vostro router con uno acquistato, acquistatelo con queste specifiche. Perché potrebbe venirvi la voglia di installare dei pacchetti aggiuntivi e quindi espandere le funzionalità del vostro router con cose che richiedono un po' di RAM. Poi vi farò vedere un po' come si comporta il mio con 128 MB di RAM. Insomma, vi consiglio di prenderlo almeno di 128 MB. 256 MB di RAM è tanta roba per un router. Comunque, non scendete al di sotto di 128 MB. La stessa cosa vale per i 16 MB di NOR. Perché, appunto, se volete installare dei pacchetti vi servono un po' di spazio, no? Va bene. Che ha il wireless già ve l'ho detto. Poi alle altre specifiche potete vederle anche. C'è qualcuno che addirittura un router se lo costruisce, no? Cosa ci vuole? Alla fine si tratta di un minicomputer. Ma io ho preferito questa soluzione molto più rapida. Non c'è bisogno di andare a bagliare tutte le opzioni anche per vedere i consumi energetici. Quindi tutto molto semplice. Una volta che vi arriva il dispositivo lo collegate tramite il cavo Ethernet al vostro PC ed accedete all'interfaccia grafica. Sarà presente un server web. Accedete tramite l'interfaccia grafica. L'interfaccia grafica si chiama Lucy e là potrete configurarlo. Il dispositivo è la distribuzione GNU Linux Libre CMC e sono molto sicuri di default. Non dovete fare nulla. Anche nel caso siate malati di hardening beh c'è poco da fare. L'unica cosa che vi è richiesta è scegliere una password robusta per il dispositivo. Quindi la prima cosa quando vi collegarete all'interfaccia sarà la richiesta di impostare una password. Impostatela bene e praticamente già avete fatto tutto. Dimenticavo che questo router non include un modem quindi il modem dovete averlo separato. L'unica cosa che posso consigliarvi è di utilizzare un modem che abbia un'unica uscita Ethernet quindi non multipla altrimenti poi potreste avere dei problemi in caso in cui abbiate vogliate un server a casa anche qualcosa anche un server per gaming qualunque tipo di server quindi un'unica uscita Ethernet dal modem la collegherete al router e il gioco è fatto. Semplicissimo. Va bene cominciamo mostrandovi l'interfaccia Lucy di cui vi parlavo vi accedete semplicemente scrivendo l'indirizzo di default nel mio caso era 192.168.10.1 ecco che sta partendo Lucy io ovviamente la password già l'ho impostata nel vostro caso ci sarà un warning che vi chiederà di impostare la password quindi come prima cosa impostate la password robusta come vi dicevo ok ma io faccio già il login e vi mostro qualcosa intanto voi non avrete Pippo 3 ma Libre CMC o quello che sia qua abbiamo lo status un paio di informazioni che non vi mostro voi poi potete andare su system ad esempio su amministrazione e la cambiare la password impostare le opzioni per la connessione SSH io vi consiglio di disattivare la connessione tramite password e abilitarla tramite chiave chiave SSH come si fa? è semplicissimo prima dovete generare la vostra coppia di chiavi sul PC e poi copiare la chiave pubblica qua con un copia e incolla prendete il file .pub .pub generato sul vostro computer e lo copiate qua semplicissimo va bene e poi potreste giostrare la vostra distribuzione Libre CMC o OpenWirt anche da connessione SSH non solo dall'interfaccia che vedete ma anche da SSH anzi vi dirò di più una volta che avete la connessione SSH e vi trovate anche a vostro agito sul terminale potreste disattivare l'interfaccia LUSI il server web che gira sul router e in questo modo risparmiare un po' di risorse e un po' di RAM anche se poco e aumentare la sicurezza direi vabbè ma chi volete che si connetta qua a LUSI se non voi stessi vabbè comunque è sempre una misura di sicurezza in più cos'altro posso mostrarvi su system abbiamo ancora software quindi qua avrete il gestore di pacchetti potrete aggiornare la lista dei pacchetti potrete installarli tutto molto semplice si può fare qua in modalità grafica si può fare ovviamente anche da terminale dopo avervi connesso tramite SSH poi start up ci sono tutti i servizi che partono in automatico poi potete configurare i led io là sono un po' malato li spengo sempre tutti come se si potesse risparmiare qualcosa so benissimo che non si risparmia niente spegnendo dei piccolissimi led ma vabbè poi di importante abbiamo il backup una volta che avete effettuato tutte le configurazioni magari generate un archivio in questo modo ecco lo faccio anch'io perfetto già fatto dopodiché per ripristinare questa situazione avete qua il restore quindi basta adesso fare l'upload dell'archivio e quindi fate un bel ripristino in questo modo in basso ancora possiamo fare il flash di una nuova versione quindi quando vedrete che uscirà una nuova versione di Libre CMC o che ne so di OpenWirt fate il flash dell'immagine in questo modo e quindi verrà applicato l'aggiornamento tutto molto semplice e facile da utilizzare va bene cos'altro posso mostrarvi andiamo su network abbiamo le interfacce di rete abbiamo il wireless il wireless non ve lo mostro comunque almeno nel mio caso era disabilitato per default lo trovo trovo che sia una cosa buona quindi sono andato io a scegliere una buona crittografia e una buona password e poi ho abilitato il wifi se andiamo su firewall le impostazioni default lasciatele come sono direi a meno che non abbiate delle esigenze particolari se dovete andare ad aprire delle porte e lo avete già fatto su un qualunque tipo di router beh qua è facilissimo andate su port forward e fate e inserite le vostre belle regole per il firewall va bene niente volevo semplicemente darvi una panoramica generale e poi farvi vedere services questo non c'è di default questi sono i pacchetti aggiuntivi che ho installato io cosa ho installato io intanto adblock per bloccare le pubblicità beh non è molto efficace cioè non è così efficace quanto un adblocker che avete sul browser perché funziona tramite dns quindi non è molto efficace comunque non costa nulla a installarlo e io l'ho installato ecco dovete sapere che l'adblock è già una di quelle cose che richiede e molta RAM quindi nel mio caso con 128 MB di RAM ho avuto un po' di problemi qua vedete che ci sono tante block list quella che ho utilizzato per andare sul sicuro all'inizio era solamente Hadaway solamente la prima perché se andavo a combinare più block list o se andavo a scegliere una block list con tante voci andavo out of memory la memoria RAM non era abbastanza quindi prima ne abilitate semplicemente una poi provate con due fate tutte le prove possibili se poi vedete che al posto di enabled vi spunta error allora probabilmente è che siete andate fuori dalla memoria RAM disponibile non avete più memoria RAM disponibile se spunta running ancora sta processando le varie block list quindi è tutto a posto vi deve spuntare o running o dopo un paio di minuti enabled in caso contrario dovete utilizzare meno block list va bene quindi vedete che è importante avere almeno 128 MB di RAM poi devo ringraziare Morro Linux che nell'ultimo video ha parlato di ZRAM cosa ho fatto? l'ho installato subito c'è il pacchetto ZRAM trattino swap in questo modo praticamente ho 68 MB di RAM in più adesso vedete il video di Morro Linux per avere più informazioni lui spiega benissimo come il tutto funziona comunque con questi 68 MB di RAM in più sono riuscito ad abilitare più block list e block list più larghe con più voci va bene un'altra cosa che ho installato è unbound o unbound non so come si pronunci praticamente stiamo parlando di risoluzione DNS recorsiva non vi sto a spiegare come funziona comunque quando voi scrivete sul vostro browser un dominio non so www.youtube.com il browser mica sa dove si trova questo youtube.com ha bisogno di risolvere l'indirizzo IP di vedere qual è l'indirizzo IP a cui questo dominio corrisponde e quindi per far ciò si serve di un server DNS bene con unbound voi farete un po' da soli cioè non vi appoggerete per quanto possibile non vi appoggerete ad un server DNS praticamente unbound terrà una cache dei vari DNS se il sito lo avete già visitato quindi ve lo ritrovate in cache e non avete bisogno di appoggiarvi ad un server DNS per la privacy si è una buona cosa soprattutto se utilizzate una VPN e notate che avete un leak DNS si dice se avete questo leak con unbound lo risolvete va bene non sto molto a spiegarvi a spiegarvi più di tanto anche questo è una cosa che serve beh perché no lo posso installare non costa nulla fin tanto che il mio router ce la fa con la RAM perché no con unbound se andate sul sito come si chiamava dnsleaktest.com vi verrete mostrato proprio il vostro indirizzo IP cioè siete voi il server DNS di voi stessi in pratica è più complicato di così ma vabbè ve lo spiego in questo modo ok poi vi faccio vedere che apro un emulatore di terminale ecco qua e mi connetto in SSH ora l'ho impostato così SSH router molto comodo vado ad utilizzare la mia chiave la chiave del mio pc e con aggiunta anche una password non mi va di lasciare la password vuota ed eccoci qua sul libri CMC versione 1.5.15 che è l'ultima in questo momento come vi dicevo di default andrete ad utilizzare veramente pochissima RAM parlava parliamo di 13 MB credo nel mio caso adesso vedrete un casino eccolo qua questo casino perché vi dicevo questo lato ZRAM trattino swap quindi vedete qua la swap sono 60 MB 68 MB e niente si sto utilizzando tanta della RAM ma ne ho ancora disponibile quindi va benissimo così ripeto di default solamente 13 MB di 128 MB totali va bene poi vi faccio vedere che adesso che ho una connessione SSH sicura posso anche disabilitare il server web quindi l'interfaccia lusi in questo modo in questo modo slash etc slash init punto di slash u http di poi stop così già l'abbiamo stoppato e poi la disabilitiamo perché non la voglio nemmeno al prossimo riavvio tanto cos'altro devo configurare ho già configurato tutto ho la connessione SSH per ogni caso per tutti i casi quindi posso disabilitare anche l'interfaccia risparmiando un pochettino di RAM forse rendendolo più sicuro oddio si comunque è una misura di sicurezza in più a posto di questa sintassi slash tc slash init punto di posso usare anche service poi il nome del servizio il nome del demone uhttpd stop adesso mi dirà che non si può fare perché già l'ho fatto oppure service uhttpd disable ok vediamo un po' quali sono i servizi che ho su init punto di ecco sono questi add block che l'ho installato io come vi dicevo cos'altro z-ram che l'ho installato io come vi dicevo unbound che l'ho installato io e tutti gli altri sono già di default cos'altro si può installare cosa c'è di interessante beh ovviamente io non conosco il caso d'uso che fa per voi non conosco le vostre esigenze nella maggior parte dei casi andrebbe bene anche già quello che c'è di default senza installare niente di aggiuntivo comunque ho fatto un po' il giro sul repository di librecmc e vi posso dire che c'è oltre a add block z-ram trattino swap ci sono tanti pacchetti per utilizzare una vpn cioè un client vpn se siete abbonati a qualche servizio vpn oppure potete farvi un proprio server vpn questo l'ho fatto io questo l'ho fatto io tramite wireguard wireguard ci sono anche altre opzioni comunque io ho installato questo che significa installare un server vpn che mentre siete fuori potete utilizzare la vostra collezione casalinga cioè geolocalizzandovi a casa vostra né più né meno quindi quando sarò fuori oppure quando sarò all'estero posso farmi risultare a casa mia cos'altro si può installare un tor client cioè utilizzare la rete tor direttamente dal router e quindi tutti i dispositivi che avrete connessi al router tramite wifi o tramite ethernet saranno connessi alla rete tor cos'altro potete bannare i p se avete bambini piccoli potete utilizzare potete installare qualcosa per il parental control potete installare qualcosa per fare l'on off del wifi a determinati orari per andare a schedulare il wifi praticamente potete installare qualcosa per fare il wake on LAN ci sono dispositivi che si possono accendere tramite LAN e quindi installate questo pacchetto eventualmente cos'altro si può fare si può installare un pacchetto se non ricordo si chiama si chiama sqm io non ho esigenza di installarlo però a quanto pare è un pacchetto molto utile nel caso in cui ci sia qualche dispositivo che ogni tanto vada a rubare tanta banda cioè scarica molta roba da internet per dire e un altro dispositivo poi si vede dei rallentamenti con questo pacchetto andate a risolvere la situazione perché vi va un po' a bilanciare la situazione molto utile ad esempio se siete dei gamer e giocate online se un altro dispositivo va ad occupare la banda voi avete dei problemi immagino che avete notato questo tipo di problemi io non sono un gamer quindi non lo so e non ho bisogno di questo pacchetto comunque è disponibile sul repository vabbè ripeto io non posso sapere che caso d'uso avete voi tra l'altro sono molto nuovo sul libro cmc e su openvirt fatemi sapere eventualmente voi se avete trovato qualche pacchetto interessante se avete qualche caso d'uso diverso dai miei da quelli che vi ho descritti descritto e niente il video finisce qua spero che sia stato utile ed interessante come sempre ciao ciao da clarintux ciao ciao Grazie.